Direttore, vorrei sapere in che modo intende posizionare le luci Dammi un 4,40 No, no, no Un 3,20 No, no, no Un 9,90 No, no, no Maestro, vede il cine Ma è fatto di istanti Di momenti Di attimi Di atmosfere Per girare una scena di un minuto Ci vogliono 6 ore Sì, dammi Un 8,80 No, dammi un 7,30 Sì, bravo No, no, no No, no, no Qua ci vuole Michele Michele? 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 Ahò, dai Sto qua Che non mi vedi Direttore Ahò, scusa un attimo Ho sentito di che appunto Per girare una scena di 6 minuti Ci vogliono 6 ore Ma che sta a dire? Ci vogliono 6 secondi Ahò, io più mi infilo Mi imparco Mi metto la tuta Passo sopra il primo operatore Passo sopra il secondo Passo sotto la cornice Passo sopra Mi imparco Mi metto su Faccio il primo piano sull'attore La scena è fatta È il capolavoro Buongiorno Sono il produttore E sono venuto direttamente da Positano Con la mia dolce signora A vedere il set Diretto Diretto Ma già dice la verità Ma stu cazzi film È finito o no È finito o no È finito o no Diretto Oh, buono Ma che sta a fare? Dopo quello Ci mette 6 ore Ma poi ci mette 6 anni Oh, buono Ma che sta a fare? Ah, vedi Ah, pronto Ma che ti sei portato? Pure la ragazzetta? Scommetto Tutto a porno È pronto Oh, buono Sto a scherzare Fermo Oh, no Pronto È finito E come dice sempre il direttore mio Il cinema È fatto dei atti Dei stanti Dei atmosfere Per fare il film Dei tre ore Ci vogliono tre minuti Hai capito come? Grazie